660.820 somministrazioni di vaccino anticovid, un numero pari al 74,3% delle 889.115 dosi fin qui ricevute. Il dato, aggiornato alle 6 del 6 aprile dal Ministero della Salute, colloca la Puglia al terz'ultimo posto come velocità di somministrazione del Siero. Proiettando il dato su base giornaliera, emerge che la media di inoculazioni nella nostra regione è di 10.582, un ritmo che porterebbe la Puglia ad una copertura del 70% della popolazione in un anno e tre mesi, 11 mesi di ritardo rispetto all'obiettivo iniziale del Governo, fissato ad agosto 2021 e dopo Sicilia, Campania e Calabria. Questa proiezione elaborata dal Lab24 e dal Sole 24 Ore è stata evidenziata dal consigliere regionale del gruppo Con Emiliano, Antonio Tutolo, il quale ha proposto al Presidente della Regione, Michele Emiliano e all'assessore alla Sanità per Luigi Lopalco, di chiedere a medici e infermieri in pensione di partecipare volontariamente alla campagna vaccinale per imprimerle una forte accelerazione. Polemico invece il senatore di Forza Italia Dario Damiani, che ha parlato di incapacità del Governo regionale di farsi carico della situazione, di sistema Puglia ormai fuori controllo e di fallimento assoluto dell'amministrazione Emiliano. Intanto, a partire dalla giornata di oggi e sino al 18 aprile, in Puglia sarà possibile per i nati nel 1950 e nel 1951 aderire alla campagna vaccinale. Con questa fascia di età si chiude la prima fase di adesione. Il secondo step sarà riservato ai pugliesi tra i 69 e i 60 anni. I 69 anni e i 68 anni potranno confermare l'appuntamento, già fissato dalle ASL, a partire dal 12 aprile alle 14. Nello stesso giorno inizieranno le somministrazioni di vaccino per i 79 anni e i 78 anni. Si può dare l'ok all'appuntamento vaccinale collegandosi al portale internet La Puglia di Vaccina, oppure tramite il numero verde 871 39 31, o recandosi nelle farmacie abilitate al servizio Pharmacup. 13.000 sono infine in tutta la regione i caregiver e i familiari conviventi di under 16 con disabilità grave ad aver ricevuto la prima dose di vaccino nelle giornate di Pasqua e Pasquetta.